Se l'anno scorso per gli amministratori di Tombolo è stato un anno di transizione caratterizzato dal passaggio di testimone da una giunta all'altra, quest'anno, dichiara il sindaco, sono pronti a camminare con le loro gambe. Contro le restrizioni poste dal patto di stabilità, la giunta di Tombolo sta concretizzando una spending review mirata davvero al risparmio del denaro pubblico, senza però togliere servizi al cittadino. La prima cosa importante riguarda la gestione dei rifiuti di tutto il mondo Etra, dello spalcio erba e degli appalti. Questo, ottimizzando il servizio, razionalizzando, mettendo in evidenza quali erano le aree di miglioramento, ha portato alla nostra comunità un risparmio importante che sarà tangibile anche nelle tasche dei cittadini, perché riusciremo a risparmiare tra i 70 e gli 80 mila euro quest'anno. La concorrenza porta dei vantaggi tangibili perché permette al miglior offerente di prendere il servizio e alla comunità di risparmiare. In previsione anche una serie di opere pubbliche studiate sempre nell'ottica del risparmio di denaro e di energia. Rifaremo completamente l'illuminazione pubblica del nostro paese. Andremo a cambiare tutti i punti luce del paese, avendo così una riduzione di 40-45 mila euro l'anno di costi di energia, finché ammortizzeremo l'impianto. Poi il risparmio sarà intorno al 40-50% dei costi di illuminazione.